Questo comitato propone quattro referendum abrogativi per cancellare le norme più negative del fiscal compact, le norme più pesanti del fiscal compact, per dare un segnale chiaro, il fiscal compact è il mostro italiano, è il dramma dell'Italia, se noi non modifichiamo il fiscal compact l'anno prossimo rischiamo di andare in default, di avere la troica europea in Italia come è successo in Grecia. Quindi da questo punto di vista il nostro impegno nel comitato è per far conoscere il fiscal compact, di cui Matteo Renzi non parla, e per mobilitare i cittadini contro questo pericolo ed è importante che il comitato sia trasversale, va da sinistra a destra e coglie persone completamente diverse ma tutte consapevoli della gravità di questo problema.